continuiamo con la serie di recensioni ma più che altro da tenere qui in negozio questi prodotti interessantissimi della rotel serie mici che vi ho già presentato su questo canale è una serie che si contraddistingue per la ricerca di prodotti di altissima qualità di altissimo livello ad un prezzo che cerca di tenere questa famosissima azienda giapponese diciamo contenuto chiaramente contenuto per questo mondo di pazzi perché comunque si parla di un amplificatore integrato da 4900 euro avete capito bene 4900 euro ma guardando la schede tecniche guardando quello che offre questo prodotto potrete capire che non sono poi così è una richiesta così folle diciamo così ma andiamo ad aprirlo che come tutte le scatole vediamo cosa ci propone il pacchetto di questo amplificatore andiamo subito ad aprirlo devo dire molto molto comodo il sistema di imballaggio e qui sotto questo bellissimo telo di velluto si cela il nostro amplificatore apriamo tutte le scatoline vediamo cosa ci abbiamo dentro accessori vari cavi di alimentazione un cavo usb niente di trascendentale e qui mi immagino che ci sarà il telecomando vediamo il telecomando perché è sempre piacevole quando siano dei telecomandi di qualità come in questo caso tutto in alluminio tra l'altro nero devo dire molto molto bello ovviamente incluse in kit abbiamo anche le batterie ma andiamo subito subitissimo a svelare l'amplificatore che è in questa colorazione antracite nera avete già visto il finale in questa colorazione bellissima canna di fucile ed ora andiamo ad accenderlo sono davide dopo l'unboxing vi faccio vedere un pochino più nel dettaglio questo oggetto qua dunque mickey ha una storia breve perché è uscito praticamente da pochissimo tempo parliamo di un anno siamo ottobre 2021 quindi ma meno di un anno sono oggetti che noi abbiamo già cominciato a vendere abbiamo venduto qualche finale anche qualche integrato questo abbiamo avuto anche la possibilità di aprirlo e quindi lo andiamo a sviscerare a esaminare un pochino meglio ahimè parliamo di prezzo questo fa parte degli integrati di alto livello quindi parliamo di 4.900 euro di listino poi naturalmente c'è la scontistica che ognuno la la fa come vuole l'x5 che è addirittura ancora più grande è da 350 watt parliamo di 6.900 euro e diciamo la forma è la stessa però è un pochino più altino addirittura l'x5 pesa 43 chili 8 questo parliamo di 28 chili e 9 quindi quasi 30 chili importato da audio gamma quindi abbiamo un'assistenza eccellente una ditta molto seria che tra le sicuramente le più grandi in italia ma con rotel i i disguidi le rotture e quant'altro è veramente raro sono macchine con una finitura sia estetica ma anche una cura nel dettaglio interno e un'industrializzazione ai massimi livelli vediamo che quando vendiamo rotel che sia un cd anche entry level da poco da molto dei problemi non ne abbiamo mai avuti o almeno sta tra i prodotti che hanno meno problemi suono di questi rotel come ho parlato del finale il 15 90 che il finalone da 300 watt anche questi cambiano un pochino della filosofia diciamo sulla filosofia degli integrati più economici della rotel quindi andiamo ad aumentare leggermente il discorso basso no sono un filino meno lineari sono un pochino più rotondi e anche questo suona così però cosa ha di bello ha un fattore di smortamento molto alto parliamo di 350 sia l'x3 che l'x5 quindi abbiamo un basso bello presente no ma come gli ampli come solo gli ampli di alto livello sanno fare questo basso è voluto è comandato è come posso dire bloccato e dal dall'amplificatore cosa succede con questi ampli qua che potete anche cambiare due tre quattro tipi di diffusori ma alla fine il suono è veramente molto simile perché è lui che comanda insomma è una cosa difficile da spiegare capita con alcune amplificazioni molto molto correntose ma succede noi oggi l'andiamo ascoltare a vedere con le Sonus Faber le Nova meglio che andiamo di qua perché là c'è un bigliettino le Nova 2 sono diffusori che di ristino siamo a toni ai 10 mila euro quindi molto molto belli e performanti che hanno un basso molto diciamo belli rotondi belli avvolgenti questo lo fa lavorare in maniera secondo me stupefacente e però senza esagerare senza lasciarlo andare questo è un po la grossa differenza degli integrati di alto livello andiamo a vedere un pochino altre altre cose come tutti gli ultimi integrati è diventato una macchina completissima parliamo di ingresso fono mm di buonissima qualità ma non solo abbiamo anche un convertitore all'interno abbiamo un convertitore che arriva a 32 bit 768 kilohertz abbiamo un bluetooth di ultissima generazione aprx a ac addirittura che adesso io sinceramente non so i termini tecnici per giudicare questi bluetooth però diciamo sono gli ultimi i più evoluti e quelli che forse diciamo sicuramente ad oggi vanno meglio abbiamo un gran trasformatore toroidale bello grosso il peso lo può anche giustificare sicuramente e abbiamo tanti ingrossi digitali abbiamo addirittura sei ingressi digitali tre ottici e tre coarsiali e un uscito usb abbiamo un'uscita anche pre out e anche per il sub insomma abbiamo veramente una bella macchina esteticamente vedete adesso qui gli abbiamo lasciato il pannello perché non ci piaceva tirarlo via che questo è di un cliente che c'è dato l'autorizzazione ad aprirlo naturalmente abbiamo chiesto però vedete come bello il display anteriore tutto digitale vedete anche la regolazione del volume la selezione degli ingressi naturalmente anche l'ingressi xlr comunque dopo andiamo a vedere dietro vedete quanta roba come ingressi cosa posso dire l'andiamo ascoltare ve lo faccio vedere dietro e poi dopo andiamo alle ultime considerazioni e poi i I'm all those who makes you lose Stay wild I'm going through a little time Getting to another day Stay wild Don't you see that I'm drowning You know that Stay wild You are coming in somewhere too Stay wild We've got the We've got the We've got the L'uscita cuffia Naturalmente di alto livello E di ottima qualità Adesso avete sentito anche voi Lo so che queste prove qua Lasciano il tempo che trovano E' inutile che su Youtube continuate a dire Ma dovresti usare un microfono Noi non siamo una sala di registrazione Ok? Noi facciamo queste prove Ma per divertirci E per farvi divertire Se volete ascoltare bene Lasciate perdere i microfoni Lasciate perdere le cose Venite qua Ok? Se è disponibile Ve lo facciamo ascoltare Più bello delle vostre orecchie Noi non abbiamo niente Però visto che molti sono distanti Gli va bene anche questo tipo di Diciamo di ascolto Detto questo Lo andiamo a vedere dietro E guardiamo anche il telecomando Lo andiamo a vedere dietro Vedete che è il lavoro di entrate Partiamo dall'alto sinistra Il nostro fono con l'attacco per la massa Vedete tutte le entrate linee E qua abbiamo le uscite L'uscita pre O l'uscita sub Un'entrata XLR Un ricevitore bluetooth E poi dopo sotto passa Alla parte digitale Come dicevo Abbiamo tre entrate ottiche E tre entrate equassiali Perché ultimamente Molti produttori Mettono queste entrate ottiche equassiali? Perché le nuove tv Anche Sky Ricevitore di Sky Così Hanno tutte le uscite digitali Non hanno più le uscite analogiche Quindi diventa comodo Ascoltare la tv Con l'amplificatore Se ce l'abbiamo comodo Abbiamo un ingresso usb via pc Ok E questo qua è il discorso trigger Quindi per andare a collegare Altri apparecchi Anche di altre marche Gli riusciamo a comandare L'accensione e lo spegnimento Quando accendiamo questo Accendiamo anche l'altro apparecchio E viceversa Sotto abbiamo Due coppie Di connettori per diffusori Li hanno messi in maniera un po' strana Ci sono i due diciamo rossi vicini Due rossi due neri Il più e il meno Il più e il meno Quindi possiamo fare tranquillamente Il nostro B-Wiring Per chi vuole Gli può anche collegare Due coppie di diffusori Però non abbiamo Non abbiamo L'uscita Diciamo Selezionabile come in altri prodotti Speaker a speaker B E sempre Sono sempre collegati Andiamo a vedere il telecomando Dopo vi faccio vedere anche l'imballo Perché è una cosa particolare Allora Il telecomando è stupendo È tra i più bei telecomandi Che io abbia visto Perché È in alluminio Quindi alluminio pressofuso Quindi molto Molto robusto Molto bello Al tatto Comodo Perché è piccolino Vedete Ha il volume Che alla fine è la cosa più importante E qua andiamo A selezionare i nostri ingressi Insomma È veramente comodissimo Anche l'imballo è d'alto livello Guardate qua Guardate solo la confezione Del telecomando E Questa è solo una piccola parte Perché C'è questa parte qua E poi dopo sopra C'è un altro imballo Doppio Quindi Siamo A cavallo Anche Con Diciamo Corrieri Un pochino Non bravi Io spero Che vi sia piaciuta Questa piccola recensione Noi cercheremo Adesso in grandi linee Di tenere anche uno in casa Perché è il prodotto del momento Insieme a tante altre cose Teniamo Macintosh Abbiamo anche Altre marche Accuphase Insomma Abbiamo un po' di tutto E di più Sempre a disposizione Da Davide Matteo E Filippo Di Audiocostruzioni